Visita a Bruxelles per Euclid Sakalotos. Il ministro delle finanze greco incontra il commissario europeo per gli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, il presidente dell'Eurogruppo, Geroen Disselblum, e il direttore generale del meccanismo europeo di stabilità, Klaus Regling. Al centro dei colloqui la situazione economica della Grecia. Le discussioni tra il paese e i suoi creditori sul salvataggio sono in stallo e sembra a rischio la nuova tranche di aiuti per Atene.